Sweet Home Alabama cantavano i Leonard Skinner a sperare che dall'Alabama arrivi qualcosa di dolce è il DS della Sidigas Scandone Avellino Nicola Alberani i biancoverdi perso Dominic e Johnson non si sono demoralizzati e subito hanno battuto il mercato alla ricerca di una viale alternativa i nomi non mancano ma è uno a far sorridere il dirigente di Pino si tratta di Levi Randolph, 24 anni di Madison, Alabama, 198 cm lo scorso anno ha calcato i parchè della NBDL indossando la maglia dei Redman Clothes dopo aver cullato il sogno NBA con i Boston Celtics ma i pro americani sono rimasti e rimarranno per il momento un sogno Avellino già lo scorso anno aveva seguito il ragazzo quest'anno è tornato alla carica avendo la disponibilità del giocatore tra oggi e domani dovrebbe arrivare anche l'ufficialità alla Summer League di Las Vegas Randolph ha vestito la maglia di Memphis con cui ha segnato 13,2 punti a partita ed un AIG di 26 contro Minnesota l'americano l'anno scorso è Redman Clothes ha realizzato 14,8 punti nelle 50 gare disputate tirando con il 39% da 3 punti e catturando 4,9 rimbalzi assieme a lui in Irpinia potrebbe arrivare anche un altro ex Alabama si tratta di Obazwan per Alberani è un giocatore chiave sul quale scommettere nell'ultimo anno di college il nigeriano con passaporto belga ha siglato 17,6 punti a partita buone impressioni ha fatto alla Summer League la scandone li aspetta a braccia aperte sperando che possano cantare insieme Sweet Home Avellino